Ultime ore di apertura seggi per i balottaggi a Civitavecchia e Palestrine in provincia di Rome e a Tarquinia in provincia di Viterbo per eleggere i nuovi sindaci. Le urne restano aperte fino alle 15. A Civitavecchia la competizione tra candidato sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega Massimiliano Grasso che ha ottenuto il 34,61% dei consensi, 9.323 voti al primo turno, e quello appoggiato dal Partito Democratico Eleanza Verdi-Sinistra, Marco Piendibene, che ha ottenuto il 21,41% dei consensi, 5.767 voti. A Palestrina si sfidano candidato di centro-sinistra Egino Macchi e quello di centro-destra Giuseppe Ciglia. Il primo, sostenuto dal Partito Democratico e da tre liste civiche, ha ottenuto il 42,07% dei voti pari a 5.045 preferenze al primo turno. Il secondo, appoggiato da Forza Italia e noi moderati, ha raccolto il 22,25% dei consensi, pari a 2.668 voti. A Tarquinia, invece, la sfida vede in testa il centro-sinistra Unito, composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Eleanza Verdi-Sinistra, a sostegno di Francesco Sposetti, che al primo turno ha ottenuto il 41,76% dei consensi, con 4.009 voti. Dovrà vedersela con il candidato di centro-destra, Alessandro Giulivi, appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, che due settimane fa si è fermato al 25,4% delle preferenze, ovvero 2438 voti.